Partiamo per il terzo anno con le scuole, ripartiamo con Move the Movie, questo progetto europeo che vinse tre anni fa insieme ad altri quattro cinema l'Europa Cinema, quindi qualcosa di importante che portiamo avanti perché ha funzionato benissimo. Quest'anno la novità è avere anche le superiori come entrata, quindi sia elementari che medie che superiori. Proponiamo dei film diversi, proponiamo film europei, a parte uno che abbiamo deciso di inserire perché l'insegnamento che dà e il messaggio che vuol dare è molto importante. Quindi è roba selvaggio. Ripartiamo anche con le famiglie quest'anno, quindi un prezzo calmerato il sabato e le domeniche che li vedrà presenti nelle sale e la possibilità di portare tutta la famiglia al cinema a vedere un film europeo molto interessante e molto carino perché le animazioni sono sempre adatte a un pubblico vasto, quindi dai bambini agli adulti sono sempre piacevolmente invitati e avendo questo prezzo calmerato riescono ad entrare nelle sale. Parliamo infatti di un coinvolgimento della scuola primaria, dall'inizio ora in questa terza edizione si è arrivati anche alla secondaria di primo grado e quindi anche la possibilità di parlare a più generazioni con un programma che durerà fino all'aprile prossimo, che si porta dietro a un concorso di elaborati che ai ragazzi vengono richiesti per raccontare l'emozione del cinema e del film che hanno visto e colpisce il fatto che questi elaborati, ebbene quelli delle prime due edizioni, oltre che sul film si concentrano proprio sulla magia della sala, sul pubblico, sulle poltrone, su come è fatta la sala del cinema. La riprova che è un'operazione necessaria in sé e anche appunto per avvicinare o riavvicinare tantissimi giovani e giovanissimi, chiaramente anche i loro insegnanti che ringraziamo, gli accompagnatori al cinema.